Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi parleremo di violenza di genere e più precisamente di stalking sul luogo di lavoro. Abbiamo chiesto all'avvocato Guaristo di parlarci del problema. Buonasera, questa sera voglio parlarvi dello stalking, reato di atti persecutori commesso nell'ambito lavorativo, in particolare un caso di cui mi sono personalmente occupata. Siamo abituati a sentire parlare di violenza di genere facendo l'equazione violenza di genere femminicidio. In realtà la violenza di genere si esplica in numerosissime modalità, sia in ambito domestico che in ambito lavorativo. Si tratta di un caso di atti persecutori posti in essere da un preposto, diciamo il capo di una donna, nell'ambito di un rapporto di lavoro con un ente locale, quindi di pubblica amministrazione. Un capo che in forza delle proprie funzioni e delle proprie mansioni dirigenziali imponeva alla lavoratrice la propria presenza, anche ingiustificata dal punto di vista lavorativo, quindi una presenza oppressiva e controllante, non solo delle mansioni della lavoratrice, ma controllante anche di qualsiasi tipo di attività, per cui la donna era limitata nel conversare con colleghi, nel prendere il caffè con altre persone diverse da lui, o era controllata sul modo di vestire e subiva o apprezzamenti anche molto espliciti dal punto di vista sessuale, o denigrazioni dallo stesso soggetto qualora la donna avesse violato un certo codice che lui tacitamente imponeva, per esempio quello di non prendere il caffè con persone diverse da lui, o di non trascorrere la pausa pranzo con lui. La cosa particolare di questa vicenda è che questa presenza oppressiva e persecutoria non si limitava all'ambito lavorativo, ma si estendeva anche al di fuori dell'ambito lavorativo. A un certo punto la donna ha cominciato a trovarsi questo capo, questo preposto, in luoghi da lei frequentati fuori dal lavoro, per cui al ristorante con amici, addirittura a spasso con il proprio marito, o nel parcheggio delle auto vicino al supermercato, ingenerando in questa donna uno stato d'ansia e di paura anche di essere aggredita da quest'uomo. Ancora una volta la donna aveva comunicato ai superiori di questa situazione di pesantissimo disagio che lei viveva, anche tenete conto che è un disagio che spesso provoca malattia, quindi periodi anche di malattia prolungata per depressione, ansia e tutto quanto una situazione del genere può comportare e comporta, senza ottenere la tutela sperata. Questo cosa ha comportato? Nel processo penale abbiamo citato come responsabile civile anche l'azienda, quindi l'ente locale, un comune, e l'imputato è stato condannato per la propria responsabilità penale e l'azienda per la responsabilità civile, quindi sul piano risarcitorio congiuntamente all'imputato. La particolarità della sentenza che ha definito questo iter processuale che è una sentenza di Cassazione è che la Cassazione ha ritenuto che ci fosse responsabilità dell'azienda per la condotta posta in essere dal preposto, dall'imputato, sia nell'ambito lavorativo che al di fuori dell'ambito lavorativo, diciamo con quelli appostamenti di cui vi ho appena detto. Questo perché ha ritenuto la Cassazione che qualora ci sia l'occasionalità necessaria della mansione lavorativa svolta dall'imputato, ovvero qualora le mansioni svolte dall'imputato siano state la causa e la giustificazione, il pretesto per poter porre in essere quella condotta persecutoria che anche se posta in essere sul lavoro e fuori dal luogo di lavoro ha una continuità e trova la propria giustificazione nelle mansioni che quel soggetto svolgeva, in quei casi il datore di lavoro, l'azienda che in questo caso oltretutto è un ente pubblico risponde del fatto del proprio dipendente perché questo è imposto dall'articolo 2087 del codice civile che impone al datore di lavoro di sorvegliare, preservare la salute fisica e morale del dipendente. Quindi io raccomando ancora una volta ai lavoratori e soprattutto alle lavoratrici vittime di atti persecutori che sono una specie particolare di mobbing di reagire e di non fermarsi davanti al timore reverenziale nei confronti del proprio superiore o dell'azienda stessa perché hanno una tutela e avranno una tutela sia in sede civile che in sede penale, ormai riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione e anche qualora questi agiti esulino l'ambito strettamente lavorativo. Con l'Avvocato Pollastro parliamo di straordinari, vediamo come vengono disciplinati e cosa è necessario sapere per essere tutelati in caso non vengano pagati. Buonasera a tutti, ci sono alcune domande che sono ricorrenti da parte dei lavoratori ed è una situazione che succede purtroppo abbastanza frequentemente, cioè il lavoratore fa straordinari, a volte fa molti straordinari e non vengono pagati. Come deve comportarsi il lavoratore? Beh, innanzitutto un elemento di assoluta chiarezza. Se uno fa del lavoro straordinario ha diritto ad essere compensato questo lavoro straordinario non solo con la retribuzione oraria collegata all'orario normale, ma come sappiamo tutti i giorni anche con una maggior azione? Mi permetto di segnalare. In passato erano state fatte tonnellate di cause perché uno diceva, ma se io faccio tutti i giorni due ore di straordinario, un'ora di straordinario tutti i giorni, questo mi deve essere calcolato anche nella liquidazione, quando vado in ferie mi devi calcolare le ferie tenendo conto che io tutti i giorni faccio un'ora di straordinario. Attenzione, quasi tutti i contratti, direi quasi tutti i contratti, però anche qui bisogna fare riferimento ai singoli contratti, ma in modo particolare sul trattamento di fine rapporto escludono un ricalcolo delle ore di straordinario al fine del calcolo della retribuzione base per fare poi il calcolo della tredicesima, delle ferie o del trattamento di fine rapporto. Detto questo, cosa deve fare il lavoratore per farsi pagare gli straordinari? Perché il lavoratore dice, ma io non è che posso, sto lavorando, sono alle dipendenze del lavoratore, del datore di lavoro, come faccio? Il rapporto continua a andare a chiedere. Prima cosa, tenere una memoria, non solo mentale, ma proprio cartacea, delle ore che uno fa e quindi quando uno fa un, ad esempio delle consegne, delle attività, tenere su una propria agendina, non ancora farlo tutte le sere, ma almeno una volta alla settimana, tenere le ore che uno ha fatto e indicare anche che cosa ha fatto in quelle ore, che cosa, ho consegnato questo prodotto a quella persona, ho chiuso questo conto, quello che è da fare. Prima cosa, quindi tenere una propria agenda, ma attenzione, attenzione, quando uno poi un domani dovesse pretendere questi pagamenti, non può limitarsi ad una dichiarazione o un registro personale, ma io ho il mio quadernetto in cui ho segnato, e ma lo dico io, il datore di lavoro può benissimo dire, non è vero, può benissimo dire, ma chi l'ha detto che tu hai fatto veramente queste ore? E quindi bisogna, come dire, avere delle prove, anzi la giurisprudenza dice che in materie di straordinari la prova deve essere rigorosa, precisa, non può essere, ma così facevo straordinario un tanto al chilo, bisogna avere una prova precisa, le prove a grandi linee, anche qui i giuristi mi criticheranno, ma a grandi linee, le prove sono solo di due tipi, o i documenti o il testimone. Documenti vuol dire lasciare delle tracce, vuol dire avere delle timbrature ad entrata o uscita e quindi magari avere coppia di queste timbrature ad entrata o uscita, se non c'è una timbratura a farsi vistare l'entrata o l'uscita, se non è possibile, perché molte volte questo non è possibile, avere i testimoni. I testimoni lavorano ancora lì, come faccio io a chiederle a delle persone di lavorare? Certo, ma nei rapporti di lavoro c'è gente che va via, c'è gente che viene, tenere i contatti, i numeri di telefono, gli indirizzi delle persone con i quali hai lavorato, dei clienti con i quali, delle persone ai quali hai consegnato delle merci, tenere quindi nomi, cognomi, indirizzi, quindi non solo numeri di cellulare che poi a volte cambiano, spariscono e cose del genere, nomi, cognomi e indirizzi di possibili persone che un domani possono essere dei testimoni. Quindi il lavoratore deve, come dire, costruire una propria azione nel corso del tempo, non può dire ho finito il rapporto di lavoro e adesso recupero tutto quello che non ho raccolto nell'arco degli ultimi anni, deve farlo giorno per giorno, per modo di dire, settimana per settimana, mese per mese, però non può aspettare a tenersi in memoria dei testimoni alla fine. Dico questo perché di solito io parlo a lavoratori, ma faccio riferimento anche ai datori di lavoro. Il lavoratore non può decidere lui se fare o non fare straordinario e quindi se il datore di lavoro si trova di fronte a delle richieste di straordinario da parte di lavoratori su orari che non ha disposto, il datore di lavoro deve scrivere, caro signore, lei non è autorizzato a fare queste ore di straordinario, ma io ho bisogno di finire, prepararmi il lavoro per il giorno dopo. No, è il datore di lavoro che è titolare della sua azienda che decide se si fa o non si fa straordinario, non è che il lavoratore possa decidere autonomamente e quindi, se così come do consigli ai lavoratori, lo do anche un datore di lavoro, lasci chiaro se autorizza o non autorizza lo svolgimento di ore straordinarie, perché se no poi, come dire, non si lamenti se alla fine autorizza, utilizza quelle ore del lavoratore che si è autodeciso e poi quel lavoratore gliele chiede in pagamento. Grazie. Anche per oggi abbiamo terminato. Se avete domande per i nostri avvocati, iscriveteci. Avvocati rispondono. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Noi ci vediamo alla prossima puntata.